Grazie Presidente, cari colleghi, Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo bisogno di legge perché, come tutti sappiamo, l'Italia è il Paese che maggiormente al mondo subisce le conseguenze negative del traffico illecito e della tratta dei beni culturali, storici e artistici. Questo bisogno di legge inserisce nel Codice Penale un titolo apposito, l'8bis, con ben 19 articoli, dall'articolo 518 e seguenti, dal titolo dei delitti contro il patrimonio culturale. Quindi è una sistemazione organica delle misure che vengono adottate contro il furto, l'appropriazione, il traffico, il riciclaggio di beni artistici, l'esportazione, l'importazione, recependo in gran parte la Convenzione di Nicosia, che come sappiamo qualche settimana fa abbiamo approvato qui al Senato, ma che attende ancora la ratifica da parte della Camera e voglio sottolineare in particolare al Governo che in base alla Convenzione per la sua entrata in vigore occorrono cinque Stati che abbiano ratificato e attualmente sono quattro. Quindi se l'Italia ratificasse urgentemente la Convenzione automaticamente entrerebbe in vigore e sarebbe molto importante perché prevede appunto accordi internazionali e misure, procedure di controllo per le importazioni e le esportazioni, una particolare attenzione soprattutto alle operazioni che avvengono su Internet, la condivisione e l'interconnessione di banche dati, di banche dati nazionali e quindi insomma tutta una serie di misure che accompagnate a quelle che entreranno in vigore di carattere repressivo con la presente legge consentirebbero certamente di contrastare questo grave fenomeno che come già ricordava anche la collega che mi ha preceduto, trova poi l'interesse anche della criminalità organizzata e di quelle che vengono definite archeomafie che utilizzano molto spesso il traffico illecito dei beni culturali anche al fine di riciclare i loro proventi illeciti. Da sottolineare a questo proposito una misura molto importante contenuta in questo disegno di legge all'articolo 3 che come sappiamo consente l'attività sotto copertura anche ai fini del contrasto del traffico illecito dei beni culturali, una misura molto appropriata perché chiaramente più si affina la capacità di delinquere della criminalità organizzata più occorre mettere in campo strumenti adeguati per contrastarla. Quindi noi cari colleghi che siamo un partito di patrioti che abbiamo a cuore l'enorme patrimonio culturale di cui dispone l'Italia, un patrimonio che certamente se valorizzato e tutelato potrebbe consentire un impulso importante anche alla ripresa e allo sviluppo economico, al richiamo turistico dal mondo intero perché le nostre bellezze storiche, artistiche, architettoniche ci vengono invidiate e sono ammirate dal mondo intero. E allora noi che siamo un partito di patrioti che abbiamo a cuore l'interesse nazionale non possiamo che condividere queste misure e dare il nostro convinto sostegno. Grazie.